Nasce oggi un fronte anti-Renzi, vogliamo mettere in rete tutte le iniziative per mandare a casa questo governo di tutti quelli che vogliono fare opposizione in modo concreto, tante manifestazioni, il 28 a Roma, il 7 a Venezia una manifestazione sui temi della sicurezza, della legalità e della lotta alla corruzione facciamo un appello a tutti quelli che vogliono aiutarci a mandare a casa il governo delle tasse e dell'immigrazione.